ciao bambini e bambini oggi parliamo di Lucy e chi era Lucy? ecco qui la ricostruzione di questo nostro progenitore andiamo a scoprire chi era quando parliamo di Lucy parliamo dello scheletro di un australopiteco scoperto da alcuni archeologi nella Rift Valley nel 1974 e nella foto vediamo proprio questi archeologi mentre lavorano sullo scheletro che hanno ritrovato sulle ossa che hanno ritrovato ma com'era Lucy? era una giovane femmina di 25 anni qui possiamo vedere un'altra ricostruzione partendo dallo scheletro ritrovato era alta poco più di un metro e procedeva in posizione eretta aveva pollici opponibili aveva 32 denti ecco qui guardate bene questi denti come erano perché da questi denti capiamo che cosa Lucy mangiava infatti Lucy era vegetariana quindi non mangiava carne e si nutriva ad esempio di bacche e non solo chiaramente e anche oggi abbiamo finito avendo approfondito la conoscenza di questo personaggio importantissimo della preistoria ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao